Salve, io mi chiamo Davide Bennato, sono docente alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania e questo breve video è per illustrare il mio libro appena pubblicato per i tipi di La Terza che si chiama Sociologia dei media digitali. All'apparenza il libro, o meglio per come l'ho progettato io, è un manuale pensato non solo per il pubblico degli studenti che sicuramente sono il mio obiettivo principale ma anche per tutti coloro i quali lavorano per motivi quindi professionali o semplicemente sono appassionati dei media digitali del cosiddetto web.zero come si sta dicendo negli ultimi tempi dei social media e quindi è un modo per fare il punto di cosa sta accadendo in quest'anno capitalizzando anche le esperienze di casi studi e di ricerca degli ultimi anni, da quando è che è esploso questo tipo di fenomeno. Ovviamente l'obiettivo di base è un obiettivo didattico ma come spesso capita la didattica universitaria ovviamente si deve confrontare con le ricerche quindi sicuramente lo scopo è quello di vedere in che modo queste tecnologie sono entrate nella vita quotidiana quindi una delle domande a cui cerca di rispondere il libro è in che modo la nostra presenza su facebook, la nostra consultazione di wikipedia, l'utilizzo di youtube o anche l'esplosione anche in italia negli ultimi tempi di twitter si integrano nella nostra vita quotidiana e una volta che si sono integrati in che modo cambiano non solo il nostro modo di consumare contenuti ma anche il nostro modo di consumare e quindi anche di creare relazioni sociali quindi questo è un po' il tema principale del libro. Per fare questo ho immaginato una duplice strada da una parte sicuramente fare il punto della situazione perché ormai sono otto anni che esistono le piattaforme dei social media, sono cambiate profondamente perché dall'esposizione dei blog che era lo strumento principale del 2004 si è arrivato fino adesso in cui sono i social network a fare da padrone dal punto di vista delle relazioni sociali quindi è anche cambiato l'ecosistema digitale all'interno del quale le nostre relazioni, le nostre modalità di consumo di contenuti digitali si sono configurate quindi sicuramente questo è un primo punto ma un mio obiettivo è stato fino a che punto possiamo considerare questi media digitali media quindi ho provato per esempio a vedere in che modo i social media stressano quindi fanno pressione sui concetti che ormai sono istituzionalizzati negli istituti sulla comunicazione quindi ha senso per esempio parlare di audience per le persone che stanno su Facebook oppure la dicotomia fra spazio pubblico e spazio privato quindi fra privacy e pubblico è così netta come noi siamo stati abituati a viverla oppure sono ancora mezzi di comunicazione o stiamo entrando in un meccanismo in cui sono per metà mezzi di comunicazione o mezzi di relazione quindi diciamo così che il mio primo problema è stato appunto cercare di fare il punto della situazione alla luce degli studi della comunicazione più recenti. L'altra parte su cui ho cercato che è una mia parte diciamo così a cui sono anche affettivamente legato perché il mio ambito di ricerca è specifico sui miei digitali ho fatto diversi studi su Twitter e su altre piattaforme di social media e cosa succede quando le persone sono nei blog o sono nei wiki, sono nei social network che usano Twitter o YouTube cioè cosa accade? Solo mezzi di comunicazione, solo voyerismo o c'è qualcosa di più profondo? Ovviamente da questo punto di vista ho cercato di capitalizzare le tantissime ricerche non solo nell'ambito sociologico ma anche nell'ambito a metà dell'informatica e le scienze sociali che hanno provato a fare il punto di questa situazione quindi è anche un lavoro diciamo così che ho fatto per me per cercare di fare una summa dei principali risultati che ormai le ricerche stanno rivelando e che molto spesso stanno confermando le une con le altre quindi ho cercato di affrontare quindi sicuramente i blog ma anche i wiki perché non solo wikipedia ma anche i wiki come piattaforma, i social network perché è innegabile e poi ho cercato anche di vedere cosa sta emergendo nella rete da parte di altre piattaforme come appunto i micro blog Twitter in primis e altre piattaforme che magari sono più connotate dal punto di vista italiano come friend feed. L'altro punto su cui ho cercato di dare un taglio un po' diverso a quello che vuole essere un manuale ma non solo perché non è facile cartografare un territorio in mutamento così rapido come quello delle social media e internet è stato quello dei valori. Una cosa che mi ha molto incuriosito da quando è che mi sono avvicinato a questi strumenti è che molto spesso queste piattaforme incorporano dei valori sociali banalmente se noi pensiamo per esempio alla dimensione della condivisione. La condivisione non è una proprietà tecnologica, è un valore che poi le piattaforme tecnologiche declinano quindi fare i pulsanti per mettere le cose non solo su social network ma su tanti social network. Quindi mi sono chiesto fino a che punto i valori si incorporano in queste tecnologie ma soprattutto in che modo queste tecnologie poi modificano i valori così come siamo abituati appunto il valore della privacy, della visibilità, della relazionalità e così via dicendo. Questo è il capitolo che diciamo così che io ho pensato legato a quella che ho chiamato tecnoetica un po' perché esistono degli studi di etica e tecnologie che prendono questo nome un po' anche per motivi affettivi perché è il nome con cui ho aperto il blog ormai nel lontano 2004 che ancora è visibile su internet. Quindi in realtà da un punto di vista generale il libro sociologia dei media digitali è un manuale quindi il punto della situazione di cosa vuol dire, di cosa si parla di quando si parla di social media nel 2011 quindi capitalizzando esperienze che è i stadi e ricerche. Ma sicuramente è anche un modo per chiedersi è tutta diciamo così è tutta una bolla comunicativa o c'è qualcosa di più profondo? È semplicemente un modo per cercare di entrare nei mass media o è un modo probabilmente diverso di fare le azioni sociali e produrre contenuti. Ovviamente io ho cercato di mantenere una posizione che valorizzasse le diverse ricerche però sicuramente se ci saranno delle riflessioni in questo senso sono ben disposto ad accoglierlo. Sono su Facebook, su Youtube, nel mio blog quindi a vostra disposizione.